Una medaglia alla memoria degli eroi della Chiassa, Giovanni Battista Mineo e Giuseppe Rosadi, riuscirono a scongiurare l'eccidio da parte dei tedeschi di oltre 200 cittadini. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, hanno voluto riconoscere e ricordare l'importanza di questi due coraggiosi partigiani che riuscirono ad ottenere nel 1944 la liberazione di 200 civili rinchiusi nella chiesa della Chiassa, dopo essere stati rastrellati come rappresaglia per il sequestro del colonnello tedesco Von Gablens. La vicenda era stata rivocata nel libro Vite in Cambio di Santino Gallorini e fatta propria dal Sindaco di Arezzo Ghinelli e dal Presidente della provincia Vasai, che avevano chiesto di avviare litere per il riconoscimento della medaglia alla memoria. Si è concluso nel luglio di quest'anno un percorso che è iniziato nel 2015 con una richiesta fatta sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco di Arezzo per la richiesta dell'attribuzione di una medaglia, di un riconoscimento ai due partigiani che riuscirono a sventare un eccidio, sarebbe stato uno dei tanti eccidi dell'estate del 1944 ad Arezzo, in particolare alla Chiassa, dove 209 cittadini erano destinati a essere passati per le armi. Loro riuscirono a trattare la liberazione, diciamo così, del colonnello tedesco arrestato o comunque incarcerato da un gruppo partigiano non italiano, credo fossero slavi, e lo riaccompagnarono alla Chiassa dove il comando tedesco accolse il loro ufficiale e liberò questi 209 cittadini. Quindi un episodio di grande valore che ha aiutato a non avere un'ulteriore strage da dover commemorare.